Ben trovati nella pressa area dell'ottava edizione di Shortini Film Festival, ci troviamo qui in compagnia di Massimiliano Scuriatti, scrittore, sceneggiatore, autore teatrale, e di Elena Fava, figlia del celebre giornalista Pippo Fava, alla cui opera teatrale Massimiliano Scuriatti ha dedicato un volume dal titolo A che serve essere vivi. Volume che raccoglie alcune delle opere teatrali di Pippo Fava e che l'autore, che il curatore, per meglio dire, commenta da un punto di vista strettamente critico. Massimiliano, quale urgenza ti ha spinto a dedicare parte del tuo lavoro all'opera teatrale di Pippo Fava? Certamente la scoperta di questo ingente patrimonio teatrale che Giuseppe Fava ci ha lasciato e che molti hanno un po' dimenticato o che non hanno conosciuto dal momento in cui nel 1984 il grande giornalista che è stato è venuto a mancare. Giornalista d'inchiesta, grande giornalista, ma è stato anche un grande scrittore, ha usato la scrittura per trattare gli argomenti che gli stavano a cuore attraverso vari linguaggi. Tra questi il teatro. Il teatro di Giuseppe Fava si compone di 15 testi teatrali importantissimi, dal 1966, anno di Cronaca di un uomo, con il quale vinse peraltro un premio importantissimo, che è il premio Valle Corsi, fino al 1983 con l'ultima violenza, è andato in scena a dicembre, quindi fino a pochi giorni prima del tragico 5 gennaio 1984. E quindi è una ricchezza italiana importante, tanto rappresentata negli anni in cui egli era in vita, è in qualche modo un po' venuta meno negli anni a venire. Una ricchezza che appunto bisognava riportare in luce in tutta la sua forza. Sono 15 testi importanti, diversi, per argomenti e per stili, con un leitmotiv che gli accomuna, che è la ricerca, o più che la ricerca, lo studio, direi, diciamo così, antropologico, sociologico dell'uomo, dell'uomo in tutte le sue sfaccettature, calato in svariati ambienti, è trattato anche con stili diversi, che mi hanno sorpreso durante la lettura. Lo stile di Giuseppe Fava, che ha dimostrato anche con i suoi romanzi, persino lavorando con il cinema, con la tv, con una sceneggiatura importantissima che gli ha fatto meritare un orso d'oro. La scrittura di Giuseppe Fava, la scrittura teatrale, è una scrittura varia, variegata, si passa dal drammatico al grottesco, al comico. È una scrittura di grande peso estetico e culturale, valeva la pena portarla in luce. E sono contento, infatti, di questo lavoro e della fiducia che la famiglia fava. Mi ha dato l'editore che ha accolto questa mia proposta. Erano anni che io volevo fare tutto questo e ho aspettato che i tempi fossero maturi, che le mie conoscenze anche rispetto al mondo teatrale fossero sufficientemente solidi per poter affrontare un argomento così importante, così difficile, dal nulla. È la prima prova importante di uno studio sistematico su questo patrimonio teatrale che abbiamo. E quindi sarà il primo dei tre volumi che raccoglieranno poi tutta l'opera di 15 testi. Quanto è stato complesso da un punto di vista professionale ed anche da un punto di vista emotivo avvicinarsi al lavoro di Pippo Fava? Ma è stato complesso, è stato emozionante. È stato emozionante, ripeto, la figura di Giuseppe Fava me la ricordo da quando ero piccolo, da quando ero ragazzino. Mia madre fece una cosa qui ad Augusta usando le fotografie all'interno di un libro che Giuseppe Fava aveva pubblicato, Mafia. E quindi mi ricordo quando fecero questa cosa, me la raccontava, mi ricordo quando fu felice di ospitarlo qui ad Augusta. E mi ricordo anche il giorno in cui mi dovette dire che la sera del 5, era il giorno dopo, mi disse, ti ricordi? Certo che mi ricordo, purtroppo è accaduto quello che è accaduto. E questa cosa mi ricordo che mi è rimasta in me, insomma. E quindi adesso, oggi, pensare a quel passato e ritrovarmi a dialogare con la famiglia, con Elena, con tutte le persone che mi hanno raccontato tante cose. Chiaramente stiamo parlando tante cose riguardanti il suo teatro, il lavoro che ha fatto. E anche toccare con mano, vedere, avvicinarmi ai manoscritti, alle cose che correggeva, è stata una grande emozione. Dal punto di vista proprio del lavoro, è stato faticoso, faticoso perché è un lavoro così, deve essere faticoso, no? Deve essere faticoso, ti devi confrontare con un mondo, quindi ti metti sempre in discussione. Ma è stato gratificante. Io credo che nella mia piccola carriera di scrittore, di autore, eccetera, è una delle cose, insomma, una delle cose che davvero mi hanno riempito. Perché non è stato soltanto il fatto di studiarlo, prima di studiarlo l'ho letto e riletto. E questa lettura è già di per sé stata una ricchezza. Mi sono fatto un'idea, tutti quelli che verranno dopo, che leggeranno questa cosa, potranno magari aggiungere chissà quante cose in più, perché è inesauribile, potranno smentirmi, potranno... Ma è un inizio, è proprio un... abbiamo lanciato proprio una... come dire, è un invito a proseguire. A proseguire nella lettura e soprattutto nella rappresentazione, perché poi il fine ultimo è riportarlo in scena, che in realtà adesso mi permetto di... chiudo dicendo che con questo trentennale c'è stata Femmina Ridenza, lo stabile di Catania, che ha in qualche modo, diciamo, onorato Femmina Ridenza un testo molto bello con Mico Magistro, e Guglielo, quindi comunque è un inizio, ma dobbiamo proseguire nel far conoscere a tutti i teatri, a tutti i nuovi direttori di teatro questo patrimonio, che io chiamo proprio... E a farlo magari riscoprire al pubblico... Riscoprire al pubblico, ai giovani, a far conoscere il teatro di Giuseppe Fava e grazie al teatro magari c'è chi non conosce le nuove generazioni attraverso il teatro ritrovare l'autore, ritrovare l'autore e scoprire chi era, perché la scrittura di Giuseppe Fava era teatrale, era narrativa anche negli articoli che scriveva, cioè gli articoli dei siciliani che si trovano tra l'altro nel sito della fondazione, sono da leggere oltre che per i contenuti, sono belli, belli anche dal punto di vista proprio stilistico, estetico, perché non si fermava soltanto alla lettura dell'accaduto, alla informazione dell'accaduto, alle motivazioni, e dentro ci inseriva il sarcasmo, l'allusione, l'accusa o comunque il dire in maniera esplicita, c'era tutto, c'era un mondo, quindi che denota e dimostra il talento di Giuseppe Fava verso la scrittura al di là di ciò che volesse dire, ecco, quindi è molto importante leggerlo attraverso più chiavi di lettura e di interpretazione, insomma. La signora Elena Fava presiede la fondazione dedicata alla figura del padre, la fondazione Fava fondata appunto nel 2002, a distanza di 12 anni dalla creazione appunto di questa fondazione, che bilancio può trarre? Ma io credo che oggi possiamo trarre sicuramente un bilancio per metà positivo e per metà negativo, positivo sicuramente perché dopo 30 anni siamo qui a parlare ancora di Giuseppe Fava. Il 6 gennaio del 1984, 24 ore dopo, io e mio fratello ci siamo fatti una promessa ben precisa che era quella di mantenere costantemente viva la memoria di un uomo, poi di quello che aveva fatto, ma soprattutto scoprendo poi i suoi testi, i suoi libri, i suoi articoli e tutta la sua grande produzione compresi anche i quadri, era quella anche di mantenere viva non solo quindi la memoria dell'uomo ma anche di tutto quello che aveva lasciato, che non è stato un compito facile perché Catania è una città che vive, che ha una corta memoria, che rifugge dal suo passato, che non vuole assolutamente ricordare nulla ed è una città che per molti anni ha rifiutato la definizione del delitto Fava come un delitto di mafia. Noi abbiamo dovuto lottare per anni per poter arrivare a un processo, ad arrivare a una giusta sentenza in Cassazione e dopo quel momento probabilmente molti dei buoni catanesi, della buona società catanese si è posto il problema, ha detto finalmente finiremo di parlare di Fava perché è stato fatto un processo, è stata fatta giustizia, ora basta. Invece si continua a parlarne, forse anche più di prima. Molto più di prima perché a quel punto nasce la fondazione Fava con l'intento appunto di rappresentare in questa città un punto di confluenza, di idee, un mezzo per mantenere e intraprendere la strada per la legalità, di essere un esempio soprattutto per i giovani, un esempio di come si può scrivere di buon giornalismo, di come si può quindi intraprendere e continuare una strada della legalità che non è sicuramente facile perché se 30 anni, io dico 30 anni non sono passati in vano, ma 30 anni ci hanno anche dato l'impronta e l'insegnamento che tante cose non sono purtroppo cambiate. Nei suoi tanti incontri pubblici, in particolar modo quelli con i più giovani nelle scuole, che percezione ha ricavato in merito da una parte alla conoscenza della figura di suo padre soprattutto tra i più giovani ed anche alla percezione che gli stessi ragazzi più giovani hanno del fenomeno mafioso? Ecco lì è un impegno molto intenso, molto importante perché io ho girato tutta l'Italia e alla fine mi sono resa conto che molto importante è la scuola per il tipo di insegnamento che dà, molto importanti siano anche le famiglie per il messaggio che poi i ragazzi riportano a casa. Allora molti di questi dei giovani di oggi del fenomeno mafioso non sanno praticamente quasi nulla, sanno poco. Ci sono delle scuole dove viene portato avanti questo discorso, si comincia sin dai primi giorni e se ne parla per tutto l'anno. Altre scuole in cui la mafia viene ancora rappresentata come un fenomeno che appartiene ad altri, che appartiene solamente al sud del mondo e in cui gli altri non ci debbono entrare. Quindi è un lavoro abbastanza lento che dà comunque anche delle soddisfazioni. Certo, io forse ho avuto più soddisfazioni andando a parlare nelle scuole di Milano o di Roma o di Bologna piuttosto che nelle scuole siciliane perché molte volte mi sono resa conto che i ragazzi sanno che le vittime di mafia sono sempre, sanno solamente di Falcone e Borsellino e là si fermano. Di tutti quanti gli altri che non sono solamente le vittime illustre, non sono stati solo grandi personaggi ma ci sono anche quelli che accompagnavano e che sono morte con queste persone di cui non si sa nulla e non si chiede nulla ma non solamente a livello del ragazzo che può anche non avere queste curiosità ma neppure a livello dell'adulto. Cioè sapere chi fossero i componenti della scorta di Falcone, quanti erano i componenti della scorta di Borsellino o di tutti quegli altri che sono morti, del portiere che è morto quando è saltato in aria Chinnici e di tutti quanti gli altri. Molti non lo sanno e allora è un'opera, come dire, lunga, laboriosa in cui bisogna mettere tanta pazienza e sapere a volte di dover cominciare sempre da capo. La sua parere qualche passo avanti da questo punto di vista è stato fatto in questi ultimi anni? Sì, certamente. Molti passi. Allora, intanto noi abbiamo una libertà di espressione di parlare oggi di mafia come 30 anni fa non si poteva fare e sappiamo bene poi alla fine la pericolosità di Giuseppe Fava qual era? Quella che dichiarava nome e cognome dei componenti di una famiglia mafiosa e che raccontava serenamente quello che era effettivamente il fenomeno mafioso e dove bisognava andare a cercare e questo non lo faceva nessuno. Giuseppe Fava viene ucciso perché è un uomo solo, perché è un giornalista che solo fa questo tipo di comunicazione, così come solo era il generale della chiesa, così come soli sono stati Falcone e Borsellino e così come solo oggi è Di Matteo. Ecco io vorrei che la gente le capisse determinate cose. A me, io mi arrabbio molto quando la gente dice era un eroe, perché come dire una definizione di quella molto succinta, tu dici era un eroe e quindi era fatto così, era il suo destino. Non è vero, perché gli eroi sono quelli che noi studiamo nella storia antica. Era un uomo, con lui gli altri 30 giornalisti che sono morti per portare avanti il loro impegno di memoria, di verità e di spirito etico, erano solamente gente che amava a fare il proprio lavoro in maniera seria. Cosa che purtroppo non sempre avviene, perché potrei parlare di tanti esempi che io poi oggi tocco con mano, di come diventa difficile continuare a volte a parlare di Giuseppe Fava in certi ambienti e di come alla fine, devo dire, dopo 30 anni siamo ancora un nome molto scomodo in una certa parte della Sicilia. Un'ultima domanda per Massimo Scuriatti. Tu prima hai ricordato quanto versatile fosse la personalità di Pippo Fava, soprattutto per quanto riguarda i suoi impegni di natura professionale, si è mosso, ha iniziato probabilmente come giornalista, immagino, poi ha continuato come autore teatrale, come autore cinematografico, addirittura come pittore. A tuo parere, la sua reale personalità, da un punto di vista umano, in quale di queste attività trovava la migliore espressione? Ma non credo che vi fosse una, come parere personale naturalmente, non credo che vi fosse una preferenza, diciamo così. Io lo vedo come le varie diramazioni artistiche intellettuali sono le varie facce di una stessa medaglia, no? Non sono, cioè, è sempre Pippo Fava che si esprime in più maniere, per cui chiaramente sapere che cosa preferisse fare forse in quel momento, se scrivere o se avesse in mente in quel dato momento della propria vita un testo teatrale perché vi era l'urgenza di parlarne attraverso quel linguaggio o attraverso anche delle casualità che l'hanno portato magari al cinema piuttosto che, questo naturalmente sono congetture, possiamo, almeno per quello che mi riguarda, certamente la sua necessità e la sua urgenza era quella di parlare della verità dell'uomo, come ho già detto prima, dell'uomo nelle varie, utilizzando i vari linguaggi a seconda del suo istinto anche artistico. È chiaro che quando lavorava per il giornale le dinamiche e le necessità erano diverse che magari fare il drammaturgo, per cui scegliere di lavorare su un argomento e cominciare a lavorare per lungo tempo, anche perché tempisticamente sono cose diverse, cioè un articolo è attualità, è scritto la notte per la mattina, accadono delle cose che cambiano un po', il teatro, il romanzo è un lavoro di riflessione, di osservazione, di accumulo di esperienze che si trasformano giorno per giorno e quindi si lavora anche in maniera molto diversa. Pippo Fava era tutto questo, era l'urgenza di dire una cosa anche perché la casualità o la necessità lo imponeva e anche la possibilità di meditare su un argomento che poi trasformava in un dipinto che poi non è altro che, io lo definisco un po', i fotogrammi del suo teatro, se noi osserviamo sarebbe anche quello veramente da soffermarsi per esempio sulle opere d'arte, sui dipinti di Giuseppe Fava che sono per lo più, per la maggior parte dei casi, il suo teatro, le foto, i fotogrammi di ciò che egli raccontava, dei personaggi che raccontava in teatro, non intendo dire che si possono associare in maniera filologica ma sono quei personaggi metafora, simbolici del suo teatro che poi prendono vita nei propri dipinti. Ma ripeto, erano delle urgenze soggettive, personali, dettate da varie dall'arte o dalla necessità di dover scrivere un pezzo giornalistico dalla sera alla mattina. Ma è sempre Giuseppe Fava, non ci sono nette separazioni dal punto di vista proprio del voler, dell'avere un'urgenza inevitabile di dire delle cose. Bene, concludiamo con un'ultima domanda alla signora Elena Fava. Qual è la sua opinione a proposito di incontri come quelli che si svolgono qui a Shortini Film Festival, nell'ambito di un festival del cinema in cui si dedica comunque uno spazio anche piuttosto ampio, approfondito a tematiche importanti, quelle della lotta alla mafia vista attraverso l'opera di un uomo che ha combattuto davvero tanto questo fenomeno? Io credo che questi sono momenti ed eventi importanti anche in una città piccola come Augusta perché alla fine hai la possibilità di far conoscere l'opera di un uomo anche a una popolazione come dire che magari vive lontano e gli apporti molto più vicina, gliela fai proprio toccare con mano questo tipo di conoscenza. Per cui per me, voglio dire, sia come figlia ma anche come Presidente della Fondazione rappresenta un momento fondamentale perché è una delle tante cose positive che incontro nel mio percorso. Quindi che ben vengano queste manifestazioni e che si allarghino sempre di più sicuramente. Grazie mille quindi alla signora Elena Fava e grazie mille a Massimiliano Scuriatti, autore di A che serve essere vivi? volume che raccoglie il teatro di Pippo Fava. In realtà, come ha già sottolineato lo stesso Massimiliano Scuriatti, il primo di tre volumi dedicati appunto all'opera del grande giornalista. Buona serata.